Arpie, seccata l'arpia, tre arpie in arrivo, una, fuori, due, fuori, tre, quarta arpie in arrivo, bene, quasi, arpie spiumata, non uccisa, no, il gamberone, prego fatemi secco il gambero, aiuto, usiamo arma come cucina pompa magari, muoiono sti cancheri qua che già mi fanno schifo solo guardarli, eh scuoti ossa, roti coglioni, perfetto, casino, bordello, ecco arrivano i lanciagranate, ma che cazzo, ma muore, ma qualche faccia da culo che c'hai, dove sei, eh vedo che ce l'ha un attimo con te, meno male, no ma la soddisfazione è che ce l'hanno anche con te un po', non ce l'hanno solo con me, Papi ho trovato, chi hai trovato, cosa hai trovato, dove sei, entro alla porta, papi, qua, ci provo un attimo, eccomi, sto arrivando, eh, ecco, va bene, eh, eh, lo so, aspetta un secondo, eh, per un nanosecondo, un petosecondo, ce la fai, c'hai, i campi di sterminio, cavolo, madonna, quando passi tu sembra che passa un treno, merce, di qua papi, ciao, salve, andiamo, mi spazio, non c'è, non bisogna andare di qua, di qua, di qua, di qua, clic 2 per analizzare, ah, porta chiusa, continuo, di qua papi, dove, ok, arrivo, e la madonna, fatto, a che cosa abbiamo fatto, non lo so, però niente di male, forse abbiamo aperto la porta che era chiusa, sì, eh, poco, si è aperta la porta, e va, corri, va, corri, ma non è che corro, ho tento, dove metti i piedi, orca, loro corrono, e come si corrono, lascia stare il mio compagno, lascia stare il socio, c'è un buco, la gioco, si, 2 per analizzare, classe, metabolismo, e si, si, arrivo, vedo, muoviti, ma io ho detto che volevo fare una serie di serie usame, non ho detto che a cazzo volevo fare, non ho detto che volevo fare la serie di corsa di usame, non mi fa saltare, oh, ecco, no ho detto che volevo fare una serie di corsa,